Musica Ben trovati da Silvia De Sandi al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari Un saluto agli amici che ci ascoltano sulle frequenze di Radio Bari Avrebbe un volto e un nome il presunto killer di Chiara Brandonisio La donna uccisa a colpi di spranga lo scorso 8 luglio Si tratta di Domenico Iania, 52enne, arrestato nella notte a Piacenza I dettagli della cronaca da Mirko Cafaro Alla vista degli agenti non avrebbe opposto resistenza Domenico Iania, 52enne Ritenuto dagli investigatori responsabile dell'omicidio di Chiara Brandonisio La 34enne uccisa a colpi di spranga lo scorso 8 luglio A Ceglie del Campo, alla periferia di Bari Il presunto omicidio sarebbe stato rintracciato la scorsa notte Dagli agenti delle squadre mobili delle questure di Bari e Piacenza Nei pressi della sua abitazione a Morfasso, in territorio piacentino Ormai da giorni il suo appartamento era tenuto sotto stretta sorveglianza In attesa che Iania vi facesse ritorno I militari li hanno notificato il decreto di fermo di indiziato di delitto Emesso dal PM Ciro Angelidis dalla Procura della Repubblica di Bari Rinchiuso nel carcere di Piacenza ora dovrà rispondere di omicidio volontario aggravato Secondo la ricostruzione degli investigatori Il 52enne avrebbe conosciuto Chiara in una chat su internet I due non si erano mai incontrati Prima dell'omicidio dell'8 luglio scorso Giorno dell'aggressione dopo il quale poco distante dal luogo del delitto Gli agenti avrebbero trovato una Fiat Panda di colore blu Risultata di proprietà dell'uomo Iania dunque sarebbe arrivato a Bari nella notte Tra mercoledì e giovedì avrebbe bivaccato E dormito nelle vicinanze dell'abitazione della donna a Carbonara Il mattino dopo la vista di Chiara intenta raggiungere in bicicletta L'azienda di trasformazione di Mandorle a Ceglie dove lavorava Le sarebbe andato incontro e probabilmente dopo un breve litigio L'avrebbe aggredita con violenza al volto e allo stomaco L'arma in ferro e lunga un metro è stata poi abbandonata vicino al corpo della donna Chiara Brandoniso era divorziata dal 2004 dopo essere stata sposata per tre anni Parenti e amici hanno riferito che dopo il fallimento del suo matrimonio Si sarebbe chiusa in se stessa Trascorrendo molto tempo su internet e soprattutto nei social network Strumenti che il procuratore capo Laudati ha indicato tra le nuove fonti di rischio del terzo millennio È un delitto che colpisce perché è un delitto senza movente Attraverso quelle che sono le comunicazioni virtuali oggi fra i cittadini Due persone che si sono conosciute solo attraverso le chat E che hanno avuto una relazione che potremmo definire superficiale di tipo virtuale Ha generato un omicidio di una violenza e di una cattiveria anche nelle modalità di esecuzione Senza precedenti È una cosa che al di là della repressione penale colpisce Ci deve far riflettere su quelli che sono i pericoli, le insidie delle società moderne E del meccanismo della comunicazione Continuiamo con la cronaca Arrestati dalla squadra mobile altri due presunti componenti del gruppo di fuoco Che due anni fa uccisero Giovanni Peschetola a Bari Vecchia Vediamo il servizio Avrebbero preso parte al gruppo di fuoco che lo scorso 21 luglio del 2008 Ha ucciso in un agguato teso nel borgo antico Giovanni Peschetola Esponente del clan rivale degli Striciuglio Per questo con l'accusa a vario titolo di concorso in omicidio Agenti della squadra mobile della costura di Bari hanno eseguito all'alba di oggi Due ordinanze di custodia cautelare in carcere Nei confronti dei fratelli Saverio e Onofrio Cassano Rispettivamente di 45, 39 anni La sera dell'agguato secondo la ricostruzione Peschetola avrebbe raggiunto il borgo antico Per un chiarimento con il clan rivale dei Capriati Ad attenderlo però avrebbe trovato il gruppo di fuoco Con intenzioni tutt'altro che pacifiche Peschetola infatti sarebbe stato investito Da una raffica di colpi di arma da fuoco Anche di grosso calibro Che non gli avrebbe lasciato scampo All'indomani dell'omicidio fu subito sottoposto a fermo Giuseppe Cassano di 69 anni Che si assunse ogni responsabilità Le indagini però avrebbero permesso di accertare La partecipazione all'agguato dei figli Saverio e Onofrio all'alba di oggi Arrestati a Bari Vecchia Nell'ambito dell'operazione da segnalare anche La presenza di due indagati in stato di libertà Accusati di favoreggiamento Cambiamo argomento Entrata nel vivo la protesta di studenti E ricercatori baresi Da ieri i primi sit-in Al Politecnico sono saltati centinaia di appelli Esami fermi fino a giovedì ad Ingegneria E si preannunciano anche i primi blocchi All'Ateneo a partire da venerdì Continua incessante la mobilitazione Da parte di studenti e ricercatori Contro i tagli all'università pubblica Previsti dalla riforma Gelmini Dopodomani la manifestazione si sposterà Davanti al teatro Piccini Parliamo di emergenza giustizia Protesta questa mattina Dei dipendenti del Tribunale di Bari Per denunciare le gravi carenze in organico Nella sezione Il lavoro c'era per noi Alessandra Bucci Sono quasi eroici questi A continuare a lavorare in questo contesto Non si può andare avanti così Eroi Così il Presidente del Tribunale Vito Savino Ha definito i dipendenti amministrativi Del Tribunale di Bari Che chiedono giustizia per dare giustizia Siamo alle solite Questa non è che l'ennesima protesta Per denunciare il rischio di paralisi Dell'attività giudiziaria barese E così oggi i dipendenti della sezione lavoro Alle prese ormai con una situazione Di difficoltà cronica Hanno incrociato le braccia per circa tre ore La situazione è insostenibile Denunciano carenze in organico del 50% Mentre non accenna a diminuire la mole di cause Nella sezione lavoro A parlare per loro Antonio Ventrelli Segretario provinciale Funzione pubblica CGL C'è una carenza di personale Ormai insostenibile Che si va sempre più aggravando Anche a seguito degli interventi Che diciamo Questo governo ha intrapreso Con l'ultima finanziaria Con il decreto legge 78 Dove ha riproposto nuovamente Tagli ulteriori di organici Del 10% Ulteriori blocchi del turnover A fare da sponda ai lavoratori L'Associazione Nazionale Magistrati di Bari I vuoti in organico sia dei dipendenti Sia dei magistrati 13 nella sezione lavoro Diventata un caso nazionale Con carichi in mani di ben 6.870 Tanta causa e procapite si ripercuotono Sulla lentezza della macchina della giustizia Come ha denunciato ancora una volta Il presidente della giunta distrettuale Dell'ANM di Bari Salvatore Casciaro C'è un atteggiamento di disinteresse Per alcune realtà meridionali Bari innanzitutto Che sono come risorse Come mezzi Come uomini Come strutture Assolutamente sottostimate Rispetto a realtà analoghe Di contesti dell'Italia settentrionale Anche in relazione ad altri tribunali Uffici giudiziari del meridione Risorse per garantire l'attività Del garante dei diritti dei minori E la richiesta del presidente Del consiglio regionale pugliese Onofrio introna L'assessore regionale al bilancio Michele Pelillo Le prossime variazioni Al bilancio di previsione Della regione Puglia Rende noto un comunicato della regione Dovrebbero contenere la previsione Di un capitolo Con lo stanziamento dei fondi necessari Al funzionamento della struttura Sarà affidata al garante La tutela non giurisdizionale Di bambini, adolescenti E minori residenti O temporaneamente presenti Sul territorio regionale Gli obiettivi puntano Al rispetto dei diritti Per l'infanzia e l'adolescenza Grazie a tutti